Oh mamma, si muove a farci da mangiare? Andiamo a fare! Ragazzi, calmatevi! La vostra mamma oggi ha fatto un sacco di cose, è andata a fare la stesa, ha fatto la lavatrice, ha steso i panni, ha stirato e è andata a prendere vostro canzello a nuoto. Ora cucino, ma abbiate un po' di pazienza, eh! La pazienza e la capacità di aspettare qualcosa in modo maturo senza arrabbiarsi o intervogirsi. L'ordine delle tue!